Sesto comandamento... Com'è? Vediamo se lo sa. Sesto comandamento. Se è un prete vero dovrebbe saperlo, ma... mi sa che non lo sa. Non commettere atti impuri. Quarto. Con ora il padre e la madre. Ha tirato a indovinare. Nona. Non desiderare la donna d'altri. Vabbè, questi comandamenti sono facili perché li fanno vedere anche nei film. Allora, quando Giuseppe andò con Maria... No, venivano Giuseppe e Maria... Andarono... Venivano... Questa non me la ricordo neanche io. E' finito l'interrogatorio? Veramente non è ancora cominciato.